Abbiamo avuto fortuna. La strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. La donna che mi somiglia. Cosa ha fatto per essere arrestata? Ammetto che non è un buon segno. Ma non ci pensare. Andiamo. Sono sconvolta. Lo capisco, ma... Non esistono, ma è stato tutto un incubo. Dopo quell'incidente. Mi dispiace, noi due litighiamo sempre. Non è tutta colpa tua. Forse hai ragione, ma ci siamo punzecchiati per tutta la sera. Solo pongo più forte. Ho il sospetto che siamo i primi turisti da passare. Da dove diavolo arriva? Non ne ho idea. Sembra l'altalena che avevo in giardino quando ero piccola. Assurdo. Vieni qui! Cosa c'è? Non è possibile. Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi? Ehi, va tutto bene. Calma. No che non va bene, non capisci. Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo dieci anni. Sei sicura? Certo che sono sicura. Questa è la mia altalena. Come può trovarsi qui? D'accordo, ti credo. E che significa? Deve essere una specie di... messaggio rivolto a me. Ehi, ehi, guarda me, guarda me. Noi ne usciremo, ok? Insieme. La donna condannata. Ero io. Vuol dire che sono la prossima. È solo una strana coincidenza. La fai facile. Potrei essere la prossima. Proseguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. Sì, credo sia meglio. Mi sento come seguito. Non è una sensazione. Ehi! Vedi di andartele via! Stai alla larga da noi, ok? Merda, che diavolo è quello? Via! Scappiamo! Sì, che diavolo è quello che ha fatto. No, 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 no. No, 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 no. Non fermarti, vai! No, 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 no. Verso la chiesa! Presto! Ehi! Uno di quei mostri di merda ci sta! Andiamo dentro! Presto! Presto! Veloce! Ehi! Scappa! Entra! Sprigati! Ehi! Ti ha quasi raggiunto! Sei infazzita! Puoi forse farti ammazzare! Tenite dentro! Dov'è Angela? Non ce l'ha fatta. Tutto inutile. Stai scherzando? No, e dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine. Merda. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda! Dobbiamo barricare la porta! Coraggio! Ehi! Ehi! Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? Credo ci stia seguendo. Qualunque sia il motivo, non possiamo fidarci. So che sei dentro! Accidenti! Che gli prende? Finirà per attirare qui quella creatura? Non ha capito che la situazione è grave. Cosa diavolo succede lì dentro? Devi andartene da qui! Vai! Prima che sia troppo tardi! Devi scappare subito! Andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare! Magari può aiutarci. Per me questa è una pessima idea. Si può sapere cosa succede? Devi aiutarci a fuggire. Abbiamo perso un'amica, vogliamo andarcele. Va bene, va bene, ho capito. Io cerco aiuto. È una perdita di tempo. Quella cosa là fuori si prende gioco di lui. Perché le creature di qualunque cosa si tratti ci inseguono? Io non lo so. Ma se lo sapessimo potremmo fermarle. professore! Andrew! Sono io. Il prossimo. Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo. Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? C'era anche lei. Ma ha cercato di difendere il mio sosia. Qui siamo al sicuro. C'erano degli altri ingressi. Scusa, prof. Non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù. È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok? Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. Ok. 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 � Ehi piccola, sei qui? Mi addolora dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza e terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego! So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oggi tocca a te. Guarda piccola, osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e i dannati resistono a tal modo. Soltanto i demoni e i uiditi al vivere. Era proprio qui. Lo tenevo stretto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Beh, il club di chi ha visto morire il proprio sosia dà il benvenuto a un nuovo membro. Diciamo ciao a Daniel, ragazzi. Ti pare il caso? Non c'è niente da ridere, Taylor. Calmo, stiamo impazzendo. Volevo solo... ...sdrammatizzare. Ecco che succede. Angela è morta dopo l'esecuzione della sua sosia. Taylor è scampata soltanto per miracolo. Quando il tuo doppio muore... ...poi tocca a te. Davvero incoraggiante. Molte grazie. Non è meglio sapere quello che ti aspetta. Eccolo, è lì! È quello che ci segue! Andiamo! Cosa facciamo adesso con quel mostro là fuori? Piano. È qui fuori. Sentite. Sì, è qui fuori. Per adesso. E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo! Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro. Non ce ne andremo. Quella creatura mi cerca, di nuovo! Vuole me! Non capite con chi abbiamo a che fare. Quell'essere non è una creatura normale. Dobbiamo scappare subito. Giusto? Giusto, dobbiamo andarcene. Se restiamo qui, diventeremo la sua merenda. L'importante è stare uniti. Ricordate cos'è successo ad Angela. Ok. Proviamo, c'è una porta sul retro. Perfetto! Cosa diavolo è stato? Un motivo in più per scappare. Forza! Forse sono andati. Sembra libero. Stiamo vicini. Correte! Nascondiamoci! Presto! Oh, 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 oh. Dove sei? Taylor, coraggio! Di qualcosa! Dobbiamo aiutarla, ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci! Cosa? Taylor è nei guai! Daniel! Taylor! Sei tu! Non vedo niente! E sei tu! Io sono qui! E sei tu! Sì. 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 Grazie per la visione Taylor, questa creatura Io non fiuttarti Adesso dobbiamo andarcene da qui Dov'è Taylor? Dov'è Taylor? Taylor è... Non ce l'ha fatta Che vuol dire? Non ce l'ha fatta Dimmi che cazzo è successo a Taylor ora? Taylor non c'è più Daniel È morta Non puoi esserne sicuro Parla piano Uno di quei mostri potrebbe essere qui Non me ne frega un cazzo Adesso torniamo insieme da Taylor Può servirle aiuto È morta Non possiamo fare niente Non posso credere che Taylor Ma che cazzo? Fermiamoci un attimo La strada è lontana Siamo nascosti Qui non ci troveranno Sì Ma solo per poco Dormi Come ci riesci? Magari Dubito che prenderei sonno Dopo quello che è successo Mi piacerebbe Sono a pezzi Qualche idea Su come andarcene? Ascolta Ormai è evidente Che nessuno ci aiuterà Siamo soli Sembra proprio di sì La soluzione Forse è l'unica È fermare la bambina Mary Trovare Mary Fermarla Può funzionare Ok Ma L'altra ragazzina Quella che continua a fuggire Mary e lei sono collegate Ne sono convinto Forse l'altra vuole Condurci da qualche parte Dove? Non lo so Magari il luogo Della resa dei conti La situazione è fuori controllo Non ci restano molte alternative Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary I processi Le esecuzioni Ok Ma allora Come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista È tardi per fare qualcosa È così È finita Dobbiamo provarci Lo dobbiamo agli altri E a noi stessi È Mary La chiave di tutto questo Ne sono certo Non è così semplice È una bambina Ti ricordo Non possiamo Ascoltami Se la rivedremo Faremo tutto quello che serve Cosa è stato? Nascondiamoci Presto Punta verso di noi Silenzio Riuscite a trovarci Pensavamo Beh È bello rivederti Smettila Mi metti in imbarazzo Ma grazie Con te non si scherza C'è troppo silenzio Dov'è Taylor Dov'è Taylor? Beh Parla Ti racconterò Quando saremo lontani da qui Adesso Dobbiamo solo pensare A salvarci Andiamo Abbiamo visto altre creature Dopo che ci hai lasciati Una di loro ha preso Taylor Non ha avuto scampo L'essere che mi inseguiva Era orripilante Quindi ce ne sono altri Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene Certe cose preferisco non vederle Hai perso gli occhiali Ma non il senso dell'umorismo Bene Merda Qualcosa ci sta seguendo Continuiamo a scappare È meglio conquistare te stesso Più che vincere mille battaglie Se conquisti te stesso La vittoria è tua Nessuno potrà togliertela Né angeli Né demoni Paradiso O inferno Forse comincia a essere evidente Non è vero? Cioè che nulla E che nessuno È obbligatoriamente Quello che sembra essere Tre esecuzioni Tre creature tormentate E Taylor è l'unica anima smarrita In ora Ipotesi sul futuro E su cosa si nasconda Nella nebbia Qualcosa di sinistro Sta per accadere Grazie a tutti Grazie a tutti